Sospiri, com'è questa storia delle multe, dei 10.000 euro di multe da pagare? Niente, ho ricevuto come milioni di italiani una cartella esorbitante, quelle che si definiscono comunemente pazze, non potendo oppormi alla stessa in quanto ero consigliere comunale, mi sono recato presso gli uffici della concessionaria emittente della cartella per pagare queste multe. Pensavo che la notizia fosse in positivo, ovvero che c'è chi prende le multe, che chiaramente aumentano il valore per le more e le sanzioni, con le more e le sanzioni decide di pagarle. Che la notizia è negativa, invece, fosse che c'è chi prende le multe, come il governatore D'Alfonso, e si appella per non pagarle o per farle pagare all'ente pubblico. Ecco, noi riteniamo che la notizia sia chi paga le multe e chi le multe non le paga. Io le pago, D'Alfonso no. Ma lei vede dietro questa notizia una strumentalizzazione politica? Io non vedo niente, ho detto al direttore di un noto quotidiano locale che mi pareva che la notizia giusta fosse, che innanzitutto che un pubblico amministratore deve dare l'esempio, una notizia giusta fosse D'Alfonso le multe non le paga e sospiri sì. Leggo che ci sarebbero altre persone che avrebbero delle pendenze in tal senso, visto che le mie sono note, adesso aspettiamo di sapere anche chi sono quelle degli altri. Grazie. 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 Grazie.